Ciao e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi mostrerò come realizzare un ottimo pan di spagna con Monser Cousy Connect o con metodo tradizionale e vedremo i pro e contro delle varie lavorazioni. Come potete vedere qui abbiamo un prospetto con le proporzioni di uova, zucchero e farina. Per ogni uovo occorreranno 30 g di zucchero e 30 g di polveri. Personalmente utilizzo 15 g di farina 00 e 15 g di amido di mais o fecola perché rende il pan di spagna più soffice. Poi aggiungeremo un pizzico di sale e un aroma a piacere. Ma cominciamo con la preparazione con il robot da cucina. Inseriamo nel boccale l'accessorio mixer o comunemente farfalla, poi 4 uova a temperatura ambiente, un pizzico di sale, un aroma a piacere, io ho utilizzato una bustina di zucchero vanigliato e 120 g di zucchero semolato. E iniziamo montando 20 minuti a velocità 4. Questo è uno dei vantaggi, non ci stanchiamo e abbiamo 20 minuti per dedicarci ad altre attività. Trascorsi 20 minuti setacciamo 60 g di farina 00 e 60 g di amido o fecola e mezza bustina di lievito. Le polveri devono essere già mescolate. Generalmente per il pan di spagna non occorre lievito, ma quando utilizziamo un robot abbiamo bisogno di una leggera spinta per aiutare la lievitazione e quindi utilizziamo mezza bustina di lievito. Questo a mio avviso è l'unico contro di questa lavorazione. Quindi spostiamo le polveri sul fondo e lavoriamo un minuto a velocità 4. Se dopo un minuto vediamo che le polveri non sono incorporate perfettamente, le spostiamo sul fondo e lavoriamo ancora 20 secondi a velocità 4. Trasferiamo poi in una teglia da 20 cm partendo dai bordi e inforniamo in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Posizioneremo la griglia del forno non a metà, ma appena più sotto, così non rischieremo che il calore eccessivo schiacci il pan di spagna. Trascorsi 40 minuti facciamo la prova a stecchino e se il dolce è pronto lasciamo ancora 10 minuti in forno spento e socchiuso. Per il metodo tradizionale invece iniziamo montando 4 uova a temperatura ambiente con un pizzico di sale. Dopo circa un minuto inseriamo 120 g di zucchero e una bustina di zucchero vanigliato o un'altra aroma a piacere. Montiamo finché il composto non sarà chiaro e spumoso, ci vorranno dei 10-15 minuti almeno. Questo, a mio avviso, è un aspetto negativo del metodo tradizionale perché richiede la vostra presenza fisica, il vostro tempo e le vostre energie. Infatti per alcuni è faticoso montare le uova così a lungo. Il vantaggio è che nel metodo tradizionale non è necessario aggiungere lievito. Quando poi le uova sono perfettamente montate, inseriamo 60 g di farina 00 e 60 g di fecola o amido di mais. Le polveri devono essere già mescolate e inserite setacciate. Inserite le polvere un po' alla volta con movimenti delicati dal basso verso l'alto. State attenti a non smontare il composto. Se volete realizzare poi il pangli spagnoli al cioccolato, basterà sostituire 30 g di amido con 30 g di cacao amaro. Trasferiamo in una teglia da 20 cm e inforniamo in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Come potete vedere, entrambi i dolci sono belli alti e soffici. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo sui social. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Io ti ringrazio fin da ora.